Sono Jacopo Dondi dall'Orologio, coordinatore di cantiere dei supermercati Alì. Sono felice di presentare oggi la conclusione dei lavori di un'importante opera di rigenerazione urbana a Tombolo. Al posto di questo supermercato, fino a qualche anno fa, c'erano i resti di un'attività di autotrasporti. Appena ricevuto l'ok a procedere, siamo intervenuti con un'importante e urgente attività di bonifica, da amianto e terreni inquinati da idrocarburi. Terminata la bonifica, siamo partiti con un progetto di urbanizzazione, che ci consente oggi di restituire una nuova piazza, un parco giochi per i più piccoli, un lotto edificabile per completare i servizi alla collettività e questo supermercato, dotato delle più moderne tecnologie per ridurre l'impatto ambientale.